E ci siamo, siamo qui allo stadio con Gennaro Napoli, buonasera, buonasera a tutti, è un onore, ringrazio la OS Record che ci ha dato la possibilità di ricordare Rosario Fioretti, una giovane vittima che comunque oggi non c'è più, dobbiamo fare questi piccoli gesti per ricordarlo. E poi è anche un piacere comunque stare qui perché comunque nell'ambiente comunque si è formato una sorta di famiglia ed è un piacere sempre incontrare amici, comunque persone vicine e lontane che comunque sai che non vedevi da parecchio. Allora Gennaro un'altra domanda poi ti concedo subito, allora tu stasera qua il tuo ruolo qual è? Allora il mio ruolo è soprattutto ricordare un amico, anche se non lo conoscevo, comunque una persona che merita e poi comunque sono venuto a trovare e a salutare soprattutto tanti amici. Colgo l'occasione di ricordare che se vogliono ascoltare la buona musica navoletana lo possono fare su www.radiocampagna.com, c'è anche l'applicazione su Play Store e su Apple Store. Di Gennaro Napoli Un bacio Ciao